D'aspo urbano è messo dal questore nei confronti di un noto alcolista della stazione ferroviaria. L'uomo da tempo trascorreva le sue giornate importunando i pendolari e le persone di passaggio, molte le multe fatte dalla polizia ferroviaria per il suo comportamento molesto. In alcuni casi era stato sorpreso dagli agenti mentre urinava nelle strade adiacenti il piazzale della stazione o addirittura fermo lungo in marciapiede dei binari affollati di viaggiatori, tra cui donne e bambini, in attesa di prendere il treno. Denunciato più volte, il questore ha emesso il provvedimento di d'aspo urbano previsto dal decreto Minniti che gli impone il divieto di frequentare per sei mesi la stazione.